Fra tanti pareggi nel secondo gruppo di classifica, salomonica divisione della posta anche fra Brescia e Pistoiese. Vanno in vantaggi locali con De Biase che raccoglie l'angolo calciato da Ghiachini a conclusione di una prolungata fase offensiva. Sembrava gioco fatto, ma la Pistoiese, abbandonato lo schema difensivo impostato sul pareggio, dà una partita...